Diciamo che ci sono persone che sono difficili in assoluto, adesso cercheremo di capire quali sono e come gestirle, ma ci sono persone che sarebbero tra virgolette anche facili da far innamorare, ma noi con i nostri comportamenti assurdi le rendiamo difficili, questo è il concetto di fondo. Noi facciamo sì che persone che si innamorerebbero tranquillamente di noi, noi, o per meglio dire voi, le fate diventare difficili perché andate a saturare completamente, diciamo, il desiderio. Quindi l'innamoramento nasce sempre da una distonia, da una differenza tra quanto desidero e quanto possiedo, perché se il desiderio e il possesso si equivalgono io posso gestire quella situazione e quindi non creo tensione, non creo emozione. Ricordiamoci che l'emozione è tensione, quindi ci sarebbero persone che sarebbero predisposte a innamorarsi di noi perché ci giudicano come magari la persona giusta, ci giudicano come la persona valida con la quale portare avanti un rapporto sentimentale-affettivo anche duraturo. Ci sono tante persone che avrebbero questo interesse, ma poi a causa del nostro comportamento, perché ricordiamoci che il comportamento che noi abbiamo influisce tantissimo sulla risposta che ci dà l'altro. Questo è un concetto di fondo. Il fatto è che noi crediamo che ci siano delle persone difficili e noi incontriamo, siamo poveri sfortunati, sfortunello ho incontrato la persona difficile e quindi ho difficoltà a coinvolgerla. Ma in realtà l'altra persona si comporta nell'interazione con noi, noi siamo tutti interdipendenti, non esiste qualcuno che ha un comportamento a sé stante e questo è un concetto di fondo che vale anche per quelli che dicono, ah io ho incontrato il narcisista, ho incontrato qua, ho incontrato là. Ma sarà sicuramente vero che ci sono persone più difficili in assoluto. Ma bisogna tenere conto questo, che noi siamo sempre in interazione con gli altri. Quindi non lamentarti se una persona, ah ma quello è uno stronzo, ma quello qua, ma quello là, ma quello mi ha fatto questo, mi ha illusa. Ma è nell'interazione con te, non è che lui ti ha illuso e tu hai interagito in modo tale che sei arrivata a un concetto di illusione. Cioè hai creduto delle cose, questo. E come dice giustamente Patrizia, ho attrauto tutte le strategie. Spre, fare ingelosire, dando anche io poco, non sono riuscito al fine, ho chiuso. Ma sì, alla fine chiudere, diciamo, non è mica mai una sconfitta poi, eh. Anzi, può essere vista come una vittoria, perché è meglio chiudere, tra virgolette, subito, che avere una vittoria di pirro, eh. Perché, come dire, tra l'altro c'è da dire una cosa, che le persone che rompono i coglioni da subito, li romperanno anche in seguito. Cioè, nel senso che se tu fai innamorare una persona che è palesemente, diciamo così, ostile al tuo modo di essere, quindi magari puoi sedurla, magari attuando dei comportamenti che poi di fatto non ti vengono spontanei e che non porterai avanti nel tempo. Se questo accade, questo è, diciamo, diventa alla fine una vittoria di pirro, no? Nel senso che vinci ma hai l'esercito sterminato. L'esercito distrutto, quindi non vale assolutamente la pena portare avanti relazioni di questo genere. E poi, nella vita dobbiamo trovare la forza di abbandonare, noi abbandonare tutte le situazioni che non ci danno benessere, che non ci danno benessere, e promuovere quelle che ci danno benessere. Poi, se uno preferisce la stampista, preferisce il catramista, ma ha problemi suoi. Cioè, noi dobbiamo tenere presente questo, il nostro innamoramento se nasce da una situazione che ci dà sofferenza, il problema è nostro, non è della persona. Perché, è come dire, qua nessuno ti sta puntando la pistola alla tempia. Sono solo nostre proiezioni, no? Sono solo le nostre cose. Oggettivamente, esistono però delle persone più difficili e persone più facili all'innamoramento, all'innamoramento, non all'innamoramento con te. Le persone naturalmente emotive, fortemente emotive, sono più facili all'innamoramento, cioè si innamorano facilmente, perché sono più facili a vivere tensioni emotive. Quindi, quando incontrano qualcuno che gli genera delle tensioni, si innamorano subito. E più è alta il livello di emotività, più queste persone si innamorano facilmente. Ma non è detto che una persona che si innamora facilmente sia l'ideale per una relazione sentimentale. Perché come si innamora facilmente di te, si può innamorare facilmente di qualcun altro. E può disinnamorarsi. No, quelli che dicono, ah, quello sei innamorato facilmente di me. Ma non è che tu sei innamorato facilmente di te e quindi non si può innamorare facilmente di qualcun altro. Perché poi verrà il momento in cui tu, se non fosse altro che rappresenti, diciamo, sempre la stessa minestra, diventerai, come dire, non darai più quelle emozioni. E a fuori di mangiare la stessa minestra, per così dire, anche se sei una donna di classe e di qualità, magari va a prendersi la sciampista. Perché, cioè, perché magari la sciampista, come dire, che gli dà una minestra, gli dà una tensione diversa. Purtroppo dipende molto dall'inizio. E questo devo dire a Patrizia Perotti. Perché se una persona ci etichetta come, ah, queste follemente innamorate di me, anche se tu poi cambi comportamento, ed è giusto cambiare comportamento comunque, però l'immagine mentale resta costante. Cioè, ci vuole un evento o ci vuole del tempo affinché l'immagine mentale si adegui alla realtà. La realtà muta più velocemente. Infatti si dice nel buddismo che la realtà è impermanente, ma le immagini mentali sono permanenti. Sono permanenti finché durano. Perché l'immagine mentale non ha la variazione. L'immagine mentale è permanente, ma non dura un tempo illimitato. Io mi creo un'immagine mentale che durerà in quel modo lì per un certo tempo, poi lo sostituirò con un'altra immagine mentale. Ma finché non faccio la sostituzione dell'immagine mentale, quell'immagine mentale lì resta permanente. Un saluto anche a Betty Kotic. E faccio pensare alla minestra, adesso diciamo in cena. Esatto, esatto. Questo è interessante però, perché come dire, mentre la realtà cambia, l'immagine mentale tende a restare costante. Quindi noi percepiamo, se veniamo etichettati in un certo modo, andremo avanti in quel modo lì alle calende greche, fin tanto che non riusciremo a dare un cambiamento repentino. Ad esempio, un'auto, se io ho un'auto, l'auto invecchierà ogni giorno, ma io la percepirò sempre uguale. Anche se avrà un bollino, questo bollino non lo percepirò. Certo è che se avviene un evento traumatico, l'auto viene sfasciata completamente, allora devo cambiare la mia immagine mentale. E lo stesso discorso avviene nelle relazioni. Quindi le persone iperlogiche, ad esempio, invece, si innamorano più difficilmente. Quindi teoricamente sono persone più difficili all'innamoramento. Ma se è vero il verso, è vero anche l'inverso. Siccome sono più difficili all'innamoramento, sarà anche più difficile che si disinnamorano. Quindi paradossalmente è più facile avere un rapporto, è più facile che ti lasci una persona emotiva rispetto a una persona iperlogica. Le relazioni con le persone emotive talvolta tendono a durare poco, perché le persone emotive tendono a vivere il colpo di fulmine, le persone emotive tendono a vivere il coup de foudre, come dicevano i francesi. E questo fa sì che avvenga un innamoramento rapido, ma probabilmente anche un disinnamoramento rapido. Per cui le persone che cambiano partner facilmente o che non riescono a stare single, perché ad esempio le persone emotive non riescono a stare single, devono sempre aver bisogno, hanno sempre bisogno di qualcuno, passano dalla relazione all'altra, perché sono come, diciamo, i girasoli, no? Che inseguono il sole. Il sole per le persone emotive sono le emozioni. Vanno a inseguire tutte le persone che gli danno, che gli erogano delle tensioni emozionali. Quindi diffidate dal dire ah, l'ho conquistata facilmente o l'ho conquistato facilmente. Se l'hai conquistato facilmente, non è che tu sei particolarmente bravo, e che probabilmente quella persona lì è naturalmente predisposta a farsi conquistare, a farsi sedurre, ma sarà probabile che lo conquisterà anche qualcun altro. Invece le persone iperlogiche si innamorano più difficilmente, ma siccome hanno bisogno di una motivazione logica per innamorarsi, noi infatti, qual è la strategia psicologica per conquistare le persone emotive e conquistare le persone iperlogiche? Le persone emotive sono quelle più semplici a conquistare, dobbiamo subito somministrare forti tensioni emotive. Alle persone iperlogiche, invece, dobbiamo subito somministrare delle forti motivazioni logico-razionali a star con noi. Cioè, le motivazioni logico-razionali sono legate al, più che altro, potremmo dire, a essere compensativi dei loro bisogni, fondamentalmente. Quindi, apparire le persone giuste su un piano di età, su un piano economico, finanziario, lavorativo, culturale, educativo, e rappresentare, diciamo, il loro ideale, l'ideale dell'io, come direbbe Freud, per queste persone, è fondamentale. Quindi, alle persone iperlogiche devi trovare delle motivazioni sostenibili ad avere una relazione con te. Alle persone emotive devi trovare l'assenza di motivazione, perché nel momento in cui la persona emotiva gli dà una motivazione, si sgancia. Perché nel momento in cui tu gli dà una motivazione logica, non gli dà più la possibilità di vivere l'emozione. Quindi, alla persona emotiva, alla persona emotiva, non dovrò mai invitarla dicendo faremo questo, faremo quello. Dai, vediamoci domani sera, sarà una sorpresa, qualcosa faremo. Devo generare sempre tensione. Mentre la persona iperlogica, devi dire, guarda, ci vediamo domani, all'ora X, dall'ora X all'ora Y, facciamo questo, facciamo quell'altro, se vieni con la macchina, guarda che lì c'è un parcheggio, ti conviene posteggiare quel posto lì, così, bla bla bla. E dà sempre motivazione. Ecco, quindi questa è un po' la differenza. Poi, ovviamente, ci sono altre due tipologie di persone che sono ancora più difficili, ma queste io consiglierei di scartarle, però, perché diciamo che ci sono gli emotivi iperlogici, poi va bene, non ho parlato delle strutture, ci sono, diciamo, a livello strutturale, ci sono anche delle strutture da tenere in considerazione, ma di questo non ne parlo. Cioè strutture genitoriali, strutture egocentriche, eccetera, ma non ne parlo. Certo, il problema qual è? Mi vedeva bella, dice Patrizia Perotti, intelligente, simpatica, sensuale, mi cercava sempre, ma senza voler stare con me. Il problema è che quando ti cercavo, per me tu eri disponibile, no? Perché quando una persona ti cerca, se tu vuoi dare, come dire, e non c'è una relazione consolidata, se tu vuoi creare tensione, non ci devi essere, perché altrimenti dove sta la tensione? Puoi anche essere bella, ma io posso avere una bella macchina, ma se la posso usare quando voglio? Bah, sì, alla fine, poi mi interesserà di più una macchina meno bella, ma che magari ho la disponibilità due ore alla settimana per dire, per usarla, o due ore al mese, e il resto del tempo non la userà qualcun altro, eh, quindi questo è, eh, beh, non eri sempre disponibile, ma da subito non eri sempre disponibile, perché dipende, eh, cioè, non è questione di disponibilità, eh, ecco, questo è il concetto, no, perché noi confondiamo, no, la disponibilità con la presenza, invece sono due cose completamente diverse, è l'esempio che ho fatto con la macchina, no, cioè, nel senso che la macchina, eh, cioè, se io, anche se posso usarla due ore alla settimana, ma so che nelle altre, eh, come dire, nell'altro tempo è lì parcheggiata in garage, e non la usa nessuno, ma quella macchina lì, anche se, ripeto, eh, un conto è averla disponibile ogni giorno, quando voglio, e questa è la totale disponibilità anche temporale, un conto è avere la macchina che posso usarla due ore alla settimana, ma so che il resto del tempo è alloggiata in garage, se invece so che la posso usarla due ore alla settimana, ma nelle altre restanti ore la userà qualcun altro, e magari quel qualcun altro lì potrebbe anche sottrarmela, e togliermi anche quelle due ore di tempo che ho, dobbiamo, eh, renderci conto che questo è quello che dobbiamo fare, dobbiamo sempre triangolare da questo punto di vista, eh, se vogliamo apparire, diciamo così, desiderabili, cioè mettere dei vincoli al possesso fondamentalmente, ma non soltanto mettere dei vincoli al possesso, mettere dei vincoli al possesso a quella persona, e dei vincoli al desiderio ad altre persone, cioè non vengo con te, ma potrei andare con qualcun altro, anzi, quando, tu non ci sei, di sicuro trombo con qualcun altro, è quello che dovete fare, chi ha relazioni con un uomo sposato, ad esempio, non parlo delle donne, ma anche di uomini, questo non deve pensare quando lui sta con la moglie, tu sei a casa tranquilla, a piangere, a pensare a lui, a soffrire a lui che sta con la moglie, lui deve sapere quando lui è a casa con la moglie, che con la quale magari non tromba più perché sono anni che tu sei sulla monta, sei monta con altri, sei a divertirti, sei a conoscere altre persone, e forse se un giorno troverai uno e è probabile che accada, che ti darà più emozioni in quel che gli da lui, lo manderai a fanculo e lo utilizzerai lui come ruota di scorta. Questo è la leva, diciamo, psicologica che dobbiamo utilizzare, fondata anche sulla psicologia inversa. e poi c'è a dire che le altre due tipologie di persone invece difficili che io consiglio di lasciare perdere, due o tre persone, insomma, sono le persone ciniche, le persone ciniche non sono narcisiste, ma le persone ciniche sono persone eccessivamente egoiste. Il cinismo è caratterizzato dall'egoismo, fa anche rima. Quindi persone che sono eccessivamente egoiste, che pensano esclusivamente, come dire, ai loro bisogni nell'interazione con l'altro che non ti danno attenzioni, che sono isolate fondamentalmente. Il cinismo, diciamo, che non... cioè, o due cinici che si incontrano possono avere una relazione, ma altrimenti non c'è scambio, no? Perché la persona cinica non ti dà scambio egoista ma soprattutto non ti dà scambio, no? Cioè, non si apre minimalmente e non... e non... e non ha necessità e non gli interessa. Vive... Può vivere l'empatia, cioè, può capire le tue sofferenze, ma fondamentalmente se ne è fotte, insomma. Cioè, vale di più, come dire, un capello fuori posto per lui che un cancro al seno per te. cioè, per dire, no? Cioè, voglio dire, ehm... e questo è il concetto di egoismo, no? Che tu sia vivo, che tu sia morto, che tu stia soffrendo, che tu non stia soffrendo, capisco che tu soffri, ma è cazzi tuoi. Ne fermo restando, saluto anche Roberta Black, che quando, però, poi questa tipologia di persone, invece, hanno loro dei problemi, vanno a rompere i coglioni al mondo, perché le persone ciniche, le persone egoiste, spaccano la minchia a tutti quando loro hanno un problema e diventano dei rompicoglioni stratosferici assurdi. Ma, quando qualcun altro ha qualche cosa, avrà bisogno, anche solo, che ne so, di una parola di conforto, anche solo, come si diceva una volta, di una parola buona, questo è un tra danno perché sono completamente immersi nel loro egocentrismo, quindi, le persone ciniche poi vivono un forte egocentrismo, un egocentrismo molto forte, hanno questa caratteristica, no? E quindi, e poi, ovviamente, ci sono tutte le persone della triad oscura, che sono persone difficili, ma sono persone da lasciare perdere, e secondo me anche le persone difficili sono le persone con dipendenze, quindi le persone della triad oscura sono i narcisisti, i machiavellici, e gli psicopatici, cioè i folli lasciateli perdere, se, come dire, ma secondo me anche tutte le persone con dipendenze, cioè, sono difficili, certo, se ti metti con un depresso, certo che è una persona difficile, ma, come dire, chi te lo fa fare? E questo è il concetto, no? Chi te lo fa fare di stare con una persona che ha grossi problemi? Cioè, è un conto se tu la conosci, eccetera, ma, però, altrimenti saranno rotture di coglioni, cioè, voglio dire, saranno rotture di coglioni, e perché crearsi delle rotture di coglioni in più quando uno potrebbe non averle? I depressi, le persone, il folle, no? Il pazzo, poi ognuno fa quello che vuole, ma anche le persone con dipendenze, che ha dipendenze da alcol, da sostanze, da gioco, anche dipendenze affettive, quelli che ti s'aggrappano, no? Al collo, come se fossero, diciamo, come se fossero delle cozze, no? Che ti s'aggrappano, che ti s'avvinghiano. E questo tipo di persone non ti porterà nessun beneficio, non ti porterà nessun vantaggio, non porterà niente di buono nella tua vita. E allora perché? Perché? Non è che tu, come dire, perché è un conto e che tu fai l'assistente sociale o che tu fai il terapeuta e allora dici, io intervengo su questa persona per aiutarla. Ma avere una relazione, per dire, con una persona psicopatica non è che nella relazione con te tu l'aiuti, no? Ti romperai i coglioni, per dire, la sua psicopatia resterà tale quale, perché non è che relazionandoti con te non è che sei un terapeuta che dici la faccio guarire, no? Interagisce con te e rimarrà tale quale o la sua, diciamo, o la sua dipendenza. Mai visto una persona che si mette che si mette in discussione la dipendenza perché ha una relazione con un'altra. È più facile, come dire, quando ad esempio una donna si innamora, una volta c'erano i drogate, adesso non so, ci sono ancora, ma quando una donna si innamora di uno che si droga o che utilizza sostanze o anche alcol, è più facile che lei o lui, diciamo, adesso inizi a drogarsi pure che riesca a far uscire l'altro dalla dipendenza. E così, se è una persona folle, pazza, schizzata, non è che ti fa schizzare te magari, ma comunque ti crea problemi e quindi lasciamo andare le persone che hanno, secondo me, bisogno, prima loro di fare un percorso per rimettersi in equilibrio, perché è ovvio che con una persona equilibrata le cose vanno sicuramente meglio, no? Certo, come dire, poi ovviamente la tria d'oscura, i narcisisti, i macchiavellici, quelli estremamente, diciamo, che poi sono narcisisti pure, e gli psicopatici vanno abbandonati, vanno abbandonati, anzi, dobbiamo rendercene conto e qua non c'è nessuna strategia che possa funzionare, mentre mentre gli iperlogici, gli emotivi, se sono equilibrati, potrebbe essere una relazione interessante sia con gli iperlogici che con gli emotivi. Ripeto, bisogna, diciamo, utilizzare le strategie psicologiche giuste, bisogna capire anche, bisogna capire anche, beh, devono trovare la motivazione, insomma, devono risolvere, smenazzarsi loro perché i problemi purtroppo sono come i reati penali, no? Ognuno è responsabile dei suoi, non puoi pretendere che se tu hai, che ne so, sei dipendente dall'alcol per dire, come dire, relazionandoti con una persona ti farà passare la dipendenza, assolutamente no, cioè, quello devi trovare tu una soluzione, ognuno deve smenazzarsi, cioè, non è che in due, ecco, perché spesso si ha incontrato l'uomo della sua vita e gli ha rovinato la vita, o la donna della sua vita e gli ha rovinato la vita, quindi, levatevi dei coglioni tutte le persone di questo genere, anche, dal mio punto di vista, anche le persone pessimiste, le persone pessimiste, quelle che vedono sempre i problemi anziché le soluzioni, ma che cavolo ce lo fa fare di avere a che fare, ripeto, siamo in 8 miliardi, dobbiamo cercare persone già difettose all'origine, cioè, non so, che poi, ripeto, questo dipende molto dall'interazione, perché poi probabilmente, come dire, ci sono persone che si ammargano bene in questo che si faceva film, sosteneva che lo stesse usando per farmi desiderare che volesse una frequentazione, allora, vediamo un po', ah, uno che si faceva, non che si faceva di qualcosa, si faceva film, sosteneva che lo stesse usando per farmi desiderare che volesse una frequentazione senza sesso, cosa, che se non fosse una pianta e pensi di questo tipo, beh, penso che sia manipolativo, cioè, nel senso che si faceva film, penso che sia una persona che rimugina sulle cose, perché o usava delle strategie, è comunque molto manipolativo, no, il film, cioè, tu, quando uno ti dice così, dice, vabbè, ok, se tu pensi questo vuol dire che non siamo fatti l'uno per l'altro, rivederci e grazie, quando si incontra una persona che fanno queste lucubrazioni, no, lucubrazioni, ma tu mi stai usando per questo, perché poi, se uno, come dire, potrebbe anche pensarlo, ma non dovrebbe dirlo, perché nel momento in cui lo dice diventa manipolativo, no, perché uno potrebbe pensare, io conosco una persona, dico, ma guarda, questa qua vorrà mica usarmi in qualche modo, interagisco senza dire niente, vedo come si comporta, poi se mi va, mi va, se non mi va, rivederci e grazie, ma uno che palesemente ti dice questo, beh, lo fa a scopo manipolativo, no, perché ti etichetti in un certo modo, quindi, io, una persona che dice una cosa del genere, rispondere subito, sì, hai ragione, probabilmente, guarda, se pensi questo, significa perlomeno che non siamo fatti l'uno per l'altra, e quindi fatti la tua strada che io mi faccio la mia, arrivederci e grazie, e poi se torna, come dire, deve, come dire, cospargersi il capo di cenere, ma mai dedicare energia a persone che ti propongono problemi cervellotici, perché la relazione non è che deve essere, come dire, un enigma, no, un, la cosa della sfinge, non è che deve essere un qualcosa di complesso, le persone che iniziano a lucubrare, iniziano a fare problemi su cose inesistenti, beh, allora, io me ne toglierei dai coglioni al più presto, e non le classificherei neanche tra le persone difficili, ma tra le persone, come dire, coglione, beh, ecco, questi che fanno ragionamenti, io li metto tra i paranoici, cioè, quello, un comportamento tipico, che sia paranoico o no, non lo so, perché nessuno gli farà una diagnosi, ma sono comportamenti paranoici, se era stato traumatizzato, uno ha bisogno di riguarda, vatti a curare il tuo trauma, e poi ti auguro una buona vita e di trovare una che non ti traumatizzi, no? Perché, cioè, perché dobbiamo in, come dire, invischiarci in situazioni di merda, questo, e non ha senso, no? Dobbiamo avere la forza di abbandonare tutte le persone che ci generano problemi di qualunque natura essi siano, e levarci dei coglioni e tenerci quelle persone che invece magari, non dico che ci risolvino i problemi, ma con la quale possiamo avere una vita, diciamo, tranquilla. E questo è quello che bisogna imparare a fare, insomma. Bene, nel frattempo, ovviamente, iscrivetevi al canale e attivate sempre la campanella.